L'esperimento ha dato buoni risultati, afferma Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, riferendosi alla sperimentazione che questo weekend ha coinvolto il centro storico della città. Siamo stati aiutati anche dal meteo non ottimale per uscire, continua, abbiamo avuto flussi più regolari e meno assembramenti. L'obbligo di circolazione pedonale a senso unico in alcuni tratti di via Branca, via Rossini e corso 11 settembre, valido tutti i fine settimana dalle 15 alle 20, però non è piaciuto a tutti i pesaresi. Non d'accordo con l'ordinanza, sono quelli che abitano in centro e per cui ora fare commissioni vicino a casa si traduce in una lunga passeggiata per le vie secondarie. Nonostante l'intento del sindaco di non colpire ulteriormente il commercio, inoltre tante sono state le lamentele dei negozianti a causa del calo delle vendite dovuto anche dal fatto che oltre al senso unico si aggiunge anche la mancanza dei clienti provenienti da altri comuni. C'è poi chi non comprende la segnaletica a terra e chi invece ignora i moniti della protezione civile e della polizia municipale e prosegue per la sua strada. Primo tra tutti il ristoratore ribelle Umberto Carriera, che domenica è stato inseguito da due agenti della polizia, dopo aver invertito il senso di marcia assieme ad una trentina di persone nella sua preannunciata passeggiata contro mano, trasmessa in diretta su Fano TV. Ho invertito per forse 20 metri il senso di marcia per fermarmi in un negozio che era le due passi. Sicuramente non si incentiva il commercio con le direzioni in centro storico, anche perché siamo in una piccola città come Pesaro, che penso non abbia bisogno di questo, anche bisognerebbe incentivare il commercio locale e aiutare il più possibile. Io spero che le istituzioni facciano le scelte giuste, almeno per noi. Gli agenti della polizia lo hanno poi seguito fino alla macelleria, ristorante dove si era tenuta la cena provocazione anti-DPCM organizzata da Carriera lo scorso ottobre. Dopo la passeggiata contro mano, il ristoratore colleziona la sua quarta multa. Poi se arriverà una multa, devo capire le motivazioni di questa multa. E farei ricorso come per le altre? Ovviamente faremo ricorso, certo, assolutamente, assolutamente. Quei 400 euro o 280 euro se viene pagata nei 5 giorni, avrò molto piacere a spendere nei negozi qui vicino.